Grazie a tutti i tempi, le persone hanno usato l'olio di oliva come cosmetica, gli egiptiensi, per esempio, tradizionalmente Cleopatra, hanno usato l'olio di oliva come trattamento di oliva. L'olio di oliva è conosciuto per usare l'olio di oliva come sopra, shampoo e per trattamento di pezzi. Il pezzi è costantemente esposto a trattamenti ambientali e trattamenti cosmetici, come il stress termale, che affronta il well-being e l'apparenza. Il stress termale è derivato dal uso dell'olio di oliva e dell'olio di oliva, che sono parte della routine di oliva di oliva per i uomini e i uomini. Il stress ambientale comprise di umbilità, radiazione di radiazione e dell'olio di oliva. Tutti questi fatti causano stress oxidativo, che infatti, a un livello molecolare, principalmente sulle proteine, i principali componenti dell'olio di oliva. Damaged proteins mean, at a microscopical level, duller, brittle, unmanageable hair, prone to split and break. BioNAP proposes Olia HT10 to fight against the effects of pollution, thermic treatment on the hair. Olia HT10 is a natural and sustainable active ingredient, obtained from a by-product of Sicilian olive oil production. It's main compounds are hydroxityrosol and tyrosol, which are strong and effective antioxidant and radical scavengers. Through ex vivo testes on hair locks, we demonstrated that Olia HT10 provides an effective protection towards urban pollutions, heat and UV, reducing oxidative irreversible damage, carbonylation of hair proteins and protective hair shaft. Olia HT10 can be easily added to rinse off and leave on hair care formulation, shampoo, serums, conditioner and masks. To get more information, please visit our website www.bionap.com. Thank you.